Pubblicità online, totalmente automatizzata, offerta al momento giusto, nel posto giusto e all'utente giusto, scelte che il mercato mondiale sta premiando e che passano attraverso il native advertising, cioè una forma di pubblicità su internet che è in linea con i contenuti editoriali del sito web che la ospita, e il marketing automation, ossia la completa automazione della distribuzione di questi contenuti. Di questi due nuovi ambiti se ne è parlato al convegno organizzato da Softec durante la Social Media Week in Corsa a Roma, al cui tavolo rappresenta il presidente e amministratore delegato dell'azienda Maurizio Bottaini. Native advertising funziona perché il contenuto pubblicitario, chiamiamolo così, all'interno di un contenuto editoriale di interesse, in qualche modo fa innanzitutto raggiungere più consumatori perché circa il 20% o in più di consumatori è interessato a quel tipo di contenuto. Il livello di attenzione è molto più elevato, circa di un 50%, perché essendo un contenuto che naturalmente viene scelto perché magari di interesse, anche il messaggio pubblicitario, il contenuto all'interno ovviamente viene recepito come un servizio e non come un disturbo. Mischiata con la marketing automation, cioè sistemi automatici di delivery di questi messaggi sulla rete tramite dei meccanismi abbastanza sofisticati che analizzano i comportamenti e i gusti dei consumatori, ci consentono di traguardare il consumatore giusto al momento giusto con il messaggio giusto.